Ad Agrigento, in occasione della Festa della Repubblica che si è svolta sabato 2 giugno, quattro persone sono state insegnite dell'onorificenza di Cavaliere. Si tratta di Tommaso Ballanza, ispettore dei Vigili del Fuoco a Riposo, Salvatore Cusumano, capo squadra dei Vigili del Fuoco a Riposo, Rosario Nicodemo, capo squadra esperto dei Vigili del Fuoco a Riposo e Salvatore Giardina, maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri. Infine, durante la cerimonia, è stata consegnata una coppia della Costituzione italiana a dieci cittadini stranieri, ai quali è stata conferita nel corrente anno la cittadinanza appunto italiana. L'evento è stato organizzato dalla Prefettura di Agrigento con la collaborazione della locale amministrazione comunale e del Comando Provinciale Carabinieri. Erano presenti autorità civili, religiose e militari della provincia.